ma senti io che ho già su capotecchi a me è ancora più stress a me è ancora più stress a me è ancora più stress almeno 10 centimetri da più e larghezze da fondi sin da me tu fai affena a corsa guarda qua madò oh 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 ci vuole ammazzare oh no 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 oh per poco eh per poco proprio tutto filmato oh